Nello scambio di mail con Franco Arminio quando abbiamo deciso di fare il mio solo qua a Valiano per stabilire la data io l'ho chiesto a lui quando fosse possibile fare questo concetto e Franco mi ha scritto che l'alba giusta è quella del 24 per cui la mia performance si chiama l'alba giusta dopo la musica che avete ascoltato il tentativo è quello di dare un altro respiro, un'altra ipotesi di suono al sud e per questo motivo vorrei suonare l'interpretazione di un brano del decimo secolo armeno che si intitola Avun Avun ed è il canto della Resurdazione Buona scoppa Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.